Gli immigrati bisognosi di protezione che sbarcano sempre più numerosi sulle coste dell'Italia non possono rimanere solo a carico del nostro paese, l'Europa deve mettere in atto un sistema di quote per ripartirli equamente tra tutti gli stati. È un segnale forte quello che lancia la Commissione europea che con la presentazione del suo piano d'azione sull'immigrazione insiste su un'idea che già si sa incontrerà non poche resistenze da molti stati membri. Questa commissione corre dei rischi ed è questo il ruolo di una commissione politica. Noi non siamo qui per ordinaria amministrazione, noi siamo qui per creare delle iniziative, per far avanzare l'Europa, per risolvere dei problemi spinosi e sappiamo sin dall'inizio, quando facciamo proposte in questo campo, sappiamo che ci saranno delle critiche. La commissione lo accetta perché è inammissibile che famiglie intere periscano nel Mediterraneo. L'idea è quella di ricollocare una parte di rifugiati dai paesi più colpiti come Italia, Malta e Grecia in altri stati UE, un meccanismo inizialmente solo emergenziale che la commissione punta a fare diventare permanente entro la fine del 2015. Di quanti migranti si parli è ancora da stabilire e qui si giocherà buona parte della partita. Peccato che dal meccanismo di solidarietà possano già ritenersi esclusi Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca che secondo i trattati hanno sulle questioni di immigrazione libertà particolari. La commissione ha anche proposto l'avvio di un progetto per il reinsediamento in Europa di 20.000 rifugiati in arrivo dai paesi terzi. La proposta è di ripartirli in base a popolazione, pil, disoccupazione e sforzi di accoglimento già effettuati da ogni paese. All'Italia dovrebbero spettarne il 9,94% e cioè poco meno di 2.000. In parallelo continua a prendere forma la missione militare navale dell'Unione Europea per la distruzione delle imbarcazioni degli scafisti in Libia. Un primo via libera dovrebbe arrivare già lunedì a Bruxelles dai ministri di esteri e difesa dei 28 e sembra sempre più probabile che la missione possa avere quartier generale e comandante italiani. Come nel 2014, anche nel 2015 la Commissione Europea decide di dare fiducia all'Italia e alla sua politica economica perché negli ultimi 12 mesi Roma ha compiuto qualche progresso nel dar seguito alle raccomandazioni ricevute. Oggi l'esecutivo comunitario si sente più tranquillo, visto che alcune cose sono state fatte, anche se non tutte. Bisogna tradurre in pratica il programma di privatizzazioni e quello di revisione della spesa. Si deve velocizzare il processo di riforme strutturali, lottare con vigore contro la corruzione e rimuovere le strozzature infrastrutturali e alla concorrenza. Però, dice il commissario degli affari economici Pier Moscovici, Noi non abbiamo cambiato idea sul debito pubblico italiano da 25 febbraio ad oggi, ma possiamo anche confermare la decisione, ovvero che non è nostra intenzione avviare una procedura per disavanzo eccessivo né emanare alcun rapporto in quanto non abbiamo constatato alcun cambiamento, tutto è in carreggiata, accogliamo anche gli sforzi fatti in termini di riforme da parte del governo italiano. In realtà da Roma alcuni obiettivi sono stati ridotti. Si prevede una minore correzione del deficit strutturale, perché si ritiene che grazie alle riforme avviate ci saranno benefici al PIL proprio nella misura richiesta da Bruxelles. Il vicepresidente della Commissione UE, responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis, concorda e spiega che la Commissione considera la richiesta di Roma di fare un aggiustamento più basso e accettabile e monitorerà l'attuazione puntuale delle riforme. Bruxelles controllerà anche perché, è scritto nel documento, l'Italia è un grande paese e dunque una fonte potenzialmente importante di ricadute su altri Stati membri. Allora meglio essere prudenti e Roma resta sotto osservazione per squilibri macroeconomici eccessivi, ma senza penalizzazioni. Per trovare un accordo tra la Grecia e i paesi creditori e assicurare l'esborso dei restanti 7,2 miliardi del prestito sono necessari più sforzi per superare le divergenze. E' questo il cuore della breve dichiarazione conclusiva dell'Eurogruppo di questa settimana. A quanto pare, la riorganizzazione dei colloqui tecnici, operata dai nuovi negoziatori scelti da Atene, sta portando i frutti sperati. Ma la lista delle riforme concordate tra le istituzioni, BCE, FMI e Commissione da una parte e le autorità elleniche dall'altra, è ancora ben lontana dall'essere perfezionata. Some important issues have now been discussed in depth, but more time is needed to bridge the remaining gaps and to reach a comprehensive agreement. As agreed in February, a comprehensive and detailed list of agreed reforms is needed as a basis for a successful conclusion of the current review. And I would like to reiterate that the agreement of the 20th of February remains the framework for the negotiations and that a comprehensive deal is necessary before any disbursements can take place. Ma il tempo stringe perché la carenza di liquidità è un problema terribilmente urgente per la Grecia. Lo ha affermato il ministro ellenico delle finanze, Yanis Varoufakis, che si è detto però fiducioso nella possibilità di arrivare a un accordo con le istituzioni creditrici entro la fine della prossima settimana. Parlando invece di un eventuale referendum sull'accordo tra la Grecia e l'Eurogruppo, provocatoriamente auspicato anche dal ministro tedesco Schauble, Varoufakis ha detto che, al momento, non è sui nostri schermi radar. Grazie a tutti.